oggi siamo qui per il disegno lascio lì come come sfondo oggi siamo qui per migliorare la mia postazione migliorare come non proprio la postazione ma l'ambiente esterno comunque quello che voi di solito non vedete live che comunque vedo io vi faccio l'intro dopo la outro e dopo comunque tutto il video quindi ho già visto il risultato a me piace molto che ho messo uno spoiler su instagram ma che poi ho cambiato idea l'ho fatto in altro modo ma comunque un botto di spoiler qui su instagram quindi andate tutti 10 euro gratuiti nel primo link in descrizione guardatevi tutto il video perché merita veramente tantissimo e like e commento e fatemi sapere cosa ne pensate live alle ore 18 o all'ora 21 sapere tutto nei link in descrizione e quindi ragazzi che cos'è come iniziato perché non era in programma di fare questo video ma visto che è uscito veramente una cosa magnifica vi sto facendo dare che il pregiuntivo adesso tutto iniziato tutto iniziato da questa scatola che conteneva i doppi pannelli così cinque doppi pannelli attaccati io cosa ho fatto come primo step quindi qui primo step ho tagliato i pannelli quindi li ho fatti di un pannello singolo purtroppo qui con il video quindi passiamo subito al secondo step ho dovuto e diciamo dopo averli tagliati essendo vedete 3d ho tirato delle linee nere per marcare di più già per evidenziare tutte le linee tutto il 3d di questa forma e per fare una cosa mai vista quindi ragazzi io vi lascio alla prima clip al primo video veloce ed ok ragazzi come avete visto e ho fatto vabbè un video veloce lì sono stato veramente un Sacco perché ovviamente bisogna sempre pulire il righello con un qualsiasi pennarello indelebile o pennarello Perché sennò poi si sporca essendo bianco poi si sarebbe sporcato tutto E dopo ragazzi la fase 3 qual è stata? La fase 3 è stata il montaggio Forse la cosa ancora più difficile perché ovviamente ero da solo e dovevo mettere a livello e fare tutta la struttura dritta Non vi dico ancora la struttura perché ovviamente per chi non mi segue su Instagram non sa ancora niente Quindi vi lascio al video, ci ho messo veramente un sacco, li ho staccati un po' di volte ma vi lascio al video e all'auto Bella raga Bella raga Sì E niente raga Allora in pratica abbiamo fatto Veramente un Bellissimo Mi viene da dire lavoro Intanto sto testando le Urban Pulse Proprio come microfono da lontano In teore si dovrebbe sentire da qui Quindi mi dovreste sentire bene Fatemi sapere cosa ne pensate Se volete Tutorial più approfondito O volete che li metto Da altre parti della camera Veramente sono fortissimi Questa qui è la M Invece di lasciarla bianca Ho tirato semplicemente le linee Poi sono tutti 3D Non sono piatti Sono tutti 3D Come avete visto su Instagram Seguitemi lì E niente Quindi sono veramente venuti benissimo Ho tirato le linee Per fare la ovviamente M Quindi veramente veramente bellissimi Belli 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 Seguitemi su Instagram E tutto il link in descrizione Discord, Instagram, Telegram Io farò le live o alle 18 O alle 21.30 21 comunque O alle 18 o alle 21 Lo saprete su YouTube Lista Community Nelle live precedenti O su Instagram Discord, Telegram Le notifiche Quindi seguitemi lì Se volete 10 euro gratuiti C'è il primo link in descrizione Tutta la gente che lo fa ragazzi Ovviamente Se lo fate voi Fatelo fare anche i vostri genitori Se volete 10 euro gratuiti Premo link in descrizione Sempre e solo dal mio link ragazzi Se no i 10 euro Purtroppo non vi arrivano E niente ragazzoni Quindi Possiamo direttamente Concludere qui il video Fatemi sapere con un commentino E con un like Se vi è piaciuto O comunque vi è piaciuta Il nuovo pezzo Diciamo Della mia postazione E Bella raga I got enough of every melody They all sound the same Yeah For my broken heart No remedy But maybe if you stay We can get away with it Cause you make me love my imperfections Answer all my questions Just to show me What's in the other side of inhibition No apologies my baby If I can get enough of everyody Yeah Grazie a tutti Grazie a tutti